Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e lei è Bea. Oggi siamo qui assieme perché dobbiamo realizzare un video unboxing potteriano molto molto particolare e che non riguarda solamente Bea, la mia calmiolina, ma tutti i vostri animali domestici. Ovviamente Bea mi ha regalato ben 10 secondi del suo preziosissimo tempo e la sua pazienza si è completamente esaurita ed è voluta scappare subito a nascondersi sotto i letti. Ma detto questo, ragazzi, un paio di giorni fa mi trovavo su Instagram dove stavo spendendo del tempo di qualità e mentre scrollavo i feed ecco che mi ha perso un post di un'azienda 100% italiana che mi ha incuriosito tantissimo. Sto parlando di Canvi, un'azienda che si occupa di realizzare delle vere e proprie opere d'arte con protagonisti i nostri amici a quattro e due zampe, tutti i nostri animali domestici. L'idea mi è piaciuta tantissimo perché si tratta di quadri molto molto particolari e ragazzi ho deciso di contattarli e da lì è partita la mia avventura e quella di Bea nel mondo di Canvi. E voi adesso vi starete chiedendo, ma cosa c'entra tutto questo con Harry Potter? Datemi tempo, ci arriviamo. La prima cosa che mi ha molto molto colpito in modo positivo è l'attenzione che Canvi ha nei confronti dei suoi clienti perché vengono accompagnati sin dall'inizio dell'ordine fino alla consegna. È tutto un processo che viene sviluppato assieme tra Canvi e il cliente. Il rapporto è immediato e molto diretto e ragazzi mi sono trovato davvero super super bene. Ma come si fa a ordinare e realizzare nel concreto un Canvi? Ragazzi potrebbe sembrare una cosa complicata. So che ad esempio in molti si scoraggiano nel realizzare un fotolibro perché bisogna comunque avere del tempo, della manualità, avere un pochino di fantasia ed è un processo sempre abbastanza lungo. Invece nel caso di Canvi è tutto molto immediato. Basta collegarsi al sito Canvi anche attraverso il vostro smartphone e da lì iniziare col primo passo che è quello della selezione del personaggio. Abbiamo diverse proposte gallerie come ad esempio abbiamo i ritratti in ambito nobiliare che secondo me sono molto molto simpatici e divertenti. Abbiamo anche quelli di coppia dove troviamo il padrone con il proprio animale. Anche questi li trovo assurdi ragazzi, bellissimi. E poi abbiamo anche ad esempio la galleria un po' più nerd, quella dedicata a film e serie tv. Ed è proprio lì che volevo arrivare perché naturalmente ragazzi quale potevo mai scegliere io se non il personaggio dello studente di Hogwarts? Ebbene sì, tra le varie scelte c'è anche lo studente di Grifondoro. Quindi ragazzi io ho subito puntato verso quella, ho detto ok, cade a pennello col mio canale e quindi la prima scelta è stata più che immediata. Una volta selezionato il nostro personaggio, e vi ricordo che i personaggi vengono aggiunti praticamente di continuo, possiamo passare al secondo punto che è quello della scelta della dimensione del nostro cambi. Ci sono tre dimensioni diverse, una piccola, una media e una grande. Io nel mio caso ho scelto quella più grande. E finito col secondo passaggio, ecco che il nostro ordine ha effettivamente inizio e ci vengono date le istruzioni per fornire a Canvi le fotografie del nostro animale domestico. Che sia un cane, un gatto o qualsiasi altro animale. Non c'è limite alla fantasia ragazzi. Tutti i vostri animali sono ben accetti e secondo me questa è un'idea regalo davvero bellissima che sicuramente sfrutterò per il prossimo Natale perché ad esempio ho diversi zii che hanno degli animali domestici, dei cani, dei gatti che amano più dei loro figli e secondo me apprezzeranno tantissimo un regalo del genere che mi sembra davvero un'idea strepitosa. Una cosa davvero ricercata e fuori dal comune. Ma come si fa concretamente ad inviare la foto a Canvi? Quindi è semplicissimo o via email come semplice allegato oppure ragazzi ancora più immediato tramite Whatsapp ed è secondo me una cosa molto molto interessante, molto smart perché è una cosa davvero immediata e si può comunicare in tempo reale con i ragazzi di Canvi che sono super super disponibili e vi aiuteranno, vi faranno proprio da consulenti perché io personalmente avevo circa 6-7 foto e non sapevo quale scegliere, quale fosse la più adatta per il personaggio dello studente di Hogwarts e loro hanno scelto assieme a me la foto migliore, quella che poteva abbinarsi meglio al personaggio che avevo scelto e l'abbiamo fatto assieme. Mi sono trovato davvero benissimo ed è stato tutto tutto facile e ha richiesto davvero pochissimi minuti. Una volta scelta la foto non finisce mica qui perché nel giro di 48 ore verrete ricontattati vi mostreranno la bozza del vostro Canvi che ovviamente sarete voi a dover approvare e ragazzi non è una cosa così scontata perché magari a qualcuno potrebbe non piacere il risultato e allora i ragazzi sono lì per ascoltare il vostro parere per magari andare a sostituire la foto del vostro animale domestico con un'altra foto perché magari per un motivo o per un altro potrebbe non soddisfarvi il risultato o magari cambiare completamente il personaggio magari due giorni fa il personaggio dello studente di Hogwarts vi sembrava una buona idea e magari avendoci dormito su forse quello di Superman potrebbe andare meglio quindi i ragazzi di Canvi sono super disponibili e avete la garanzia 100% soddisfatti quindi dovrete essere soddisfatti al 100% del risultato finale del vostro Canvi prima che questo venga messo in stampa. Io vi dirò la verità ragazzi visto che non era un regalo per un'altra persona ma era per me stesso allora ho deciso di saltare questo passaggio e ho chiesto ai ragazzi di Canvi di non inviarmi la bozza così da non spoilerarmi il risultato finale ed avere la reazione più autentica possibile quindi ragazzi ecco qui il mio bel pacco e finalmente possiamo aprirlo assieme quindi andiamo di bisturi e di unboxing cercherò di fare attenzione per non rovinare la tela ok ragazzi nessun pericolo anche uno stupido come me riesce a non rovinare questa tela perché la confezione è studiata in modo che col taglierino non si possa andare a rovinare la tela che c'è sotto quindi comunque cautela però è ben progettata infatti va estratta dal nostro cartone e ragazzi io sto già intravedendo qualcosa attraverso il pluriball ma adesso la andiamo a scoprire proprio assieme io già vedo che la qualità dei materiali è davvero molto molto buona e la tela è interamente realizzata qui in Italia così come la grafica e tutto il resto e ragazzi sono super 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 curioso ok ci siamo 3, 2, 1 e ragazzi eccola qui wow ragazzi è bellissima era una foto fatta col mio telefonino quindi neanche questo granché di foto e ragazzi sono riusciti a fare un lavoro spettacolare è bellissima cioè poi ragazzi con la divisa da grifondoro ma guardate quanto è bella e quanto è alta la qualità di questa stampa è svalorditiva ragazzi sono davvero super super contento del risultato fatemi sapere cosa ne pensate e naturalmente fatemi sapere se voi conoscevate già questo servizio trovate tutti i link sotto in info box e vi consiglio di seguirli su Instagram perché a partire dal mese prossimo cominceranno a fare dei giveaway dove regaleranno dei cambi a tutti i loro followers quindi ragazzi mi raccomando trovate sotto in info box tutti i dettagli e io ragazzi ve lo straconsiglio la qualità è davvero altissima anche da vicino la stampa è davvero ottima più che ottima è davvero bellissima e credo proprio che la porterò dal mio corniciaio di fiducia per fare anche una cornice e appenderla qui in camera mia è davvero bellissima e come vi dicevo ci sono diverse gallerie quindi qualora non voleste lo studente di magia potreste optare per qualsiasi altra cosa a me piacciono particolarmente quelli di coppia e non escludo che un domani possa regalarne uno a mia madre proprio assieme a Bea magari la regina con la sua principessa quindi questo secondo me ragazzi è un servizio davvero innovativo 100% italiano e sono davvero contento di poterlo sostenere e mi piace davvero tantissimo tutto dal servizio clienti alla resa della stampa su questa bellissima tela che è davvero ottima guardate dietro tutta intelaiata è davvero un lavoro di alta alta qualità e ragazzi naturalmente vi ricordo che sotto in info box trovate ancora una volta tutti i vari riferimenti fatemi sapere cosa ne pensate io sono davvero super super soddisfatto fatemi sapere qual è il vostro animale domestico perché mi hanno raccontato i ragazzi di cambi che ne hanno realizzato addirittura anche per una zebra o ad esempio anche per un serpente e per tantissimi altri animali quindi ragazzi non ci limitiamo a cani e gatti ma davvero qualsiasi animale ben accetto quindi fatemi sapere sotto nei commenti se avete animali domestici perché non ve l'ho mai chiesto e soprattutto fatemi sapere a quale canvi vi piacerebbe abbinare il vostro cane quindi non vedo l'ora di leggere i vostri commenti ragazzi io a questo punto vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e naturalmente vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità potteriane e vi chiedo di lasciare un mi piace commentare e condividere il video con i vostri amici e naturalmente noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao